Sottoscritto con convinzione questa iniziativa, invito tutti i cittadini a farlo perché mai come in questo momento in Europa c'è bisogno di far comprendere che deve porre al centro delle proprie azioni, dei propri interventi, lo sviluppo sostenibile e quindi la crescita occupazionale. La proposta che ci viene posta è intelligente, cerca di reperire risorse adeguate che gli stati non hanno, da chi fino ad oggi non ha pagato, per destinare a un progetto ambizioso e quindi è un'iniziativa lodevole che spero possa raggiungere questo obiettivo e invito tutti a correre, a correre, a firmare per ottenere il risultato che ci è stato proposto.